In questo video spiegheremo come il sistema di compensazione automatica presente sulla piegatrice HR-BTC permette di massimizzare la linearità di piega con risultati costanti e precisi su tutta l'allungazione del pezzo. HR-BTC dispone anche di una tavola inferiore a compensazione controllata, quindi significa che durante la piega, anzi per meglio dire ancora prima di effettuare la piega, la tavola inferiore si predispone per andare già a recuperare quel gap angolare che possiamo trovare tra le estremità e il centro tavola, cosa molto importante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS